Dunque, zombie contro Mandaro. Io non lo ricordo. Non lo ricordo. Ah, lo puoi giocare nel cimitero. Minchia. Mmm, è strano. Adesso. Fastering. Ok, più. Vai. Guarda le prime tre carte. Puoi rivellare una creatura e aggiungerla alla tua mano. Metti le altre in fondo. All'inizio di ammuntamento... Ah, sì, lo giri. Diventa un 3-3. Le creature costano... ... 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 un'altra del baron prendo due quattro no sei sei ganni no vai sette danni sette danni sì scusami passo le creature costumano in meno sì mia risposta p1 p1 spara danno pare la sua forza una creatura sacrifico per lui resto cinque raggi sei fine direi una figura vai vai hai avuto una mano perfetta meglio così non potrei scende c'è c'è pesto Grazie. Due, due. Due. Sacrifico. Non muore con lo sgonfio di uno. Diventa un tre. No, questo è un 3-6. Quando entra in gioco bisogna capitare tutti i manali. Ok, quindi due e cinque. Due e cinque. Quindi quella è un tre. Vabbè. Prego i due danni. I quattro danni. Due sulla fine. Due. Cosa ha fatto da lì? Sacrifico. Una volta. Stava avendo un segno. Ah, quindi quello che quando scende... Forte. Ma era rara? Sì. Flash. non, non, ti ricorda di qua, tui, io non, ti ricorda di qua